Musica, teatro, cinema per bambini e famiglie. Anche quest'anno sono tanti gli appuntamenti, quasi tutti a ingresso gratuito, di Prato Festival. La rassegna natalizia è organizzata dal Comune da fine novembre all'Epifania per regalare un tuffo nella cultura durante questo magico periodo dell'anno. Con la musica antica, con mesotonica, con il teatro, con Metro Popolare e tra gli altri, con i concerti che torneranno nei luoghi deputati, dal Teatro Magnolfi a Officina, ma anche in carcere con Giovanni Truppi, ad una serie di attività che saranno poi svelate via via per il 31 di dicembre e per il 1 di gennaio, che poi saranno il cuore della programmazione di questo mese di Natale. Torniamo a fare attività in presenza, musica da vivo, teatro in particolar modo, con tutta l'attenzione del mondo, ma anche con tutta la voglia di ritornare. Un altro ritorno è quello del concerto Cittadino Edoardo Chiti, che si esibirà il giorno di Capodanno, ma in una location diversa, il Teatro Borsi, anziché la stazione centrale. Per i più piccoli non mancheranno i cartoni animati al Cinema Eden, con cinque appuntamenti la domenica mattina a partire dal 5 dicembre, oltre a quello in programma alla vigilia di Natale. Tutti gli eventi nel rispetto della normativa anti-Covid saranno con prenotazione obbligatoria e necessario esibire il Green Pass valido. Tutti i dettagli sul sito www.pratofestival.it